Prenderanno il via a breve nei plessi Andrea Costra, Rubri e Bizzi i lavori di adeguamento di alcuni locali per far affronte alle richieste che i rispettivi dirigenti scolastici hanno segnalato al Comune di Imola. Sulla base delle necessità riscontrate per le iscrizioni di settembre 2017 è stato infatti necessario intraprendere lavori di abbattimento di alcune barriere architettoniche per accogliere in sicurezza alunni con disabilità. Sfruttiamo il periodo estivo, che è un periodo delle vacanze, per accogliere queste esigenze che i dirigenti scolastici ci rappresentano e ovviamente laddove è possibile realizzare questi adeguamenti. Quest'anno interessano tre scuole, due scuole primarie, quella di Isolina e quella della Pedania e la scuola media secondaria Andrea Costa. Oltre ai lavori di adeguamento si andrà a chiudere nei prossimi mesi anche il ciclo di verifica sismica iniziato nel 2005 e che ha portato all'esame 21 scuole ai Molesi. Con gli interventi che coinvolgeranno le ultime tre scuole comunali, quest'estate completeremo le prove di vulnerabilità sismica. Accanto a questi interventi che hanno come denominatore comune il tema della sicurezza, noi in questi anni abbiamo lavorato molto per cercare l'ottenimento del certificato prevenzione incendi. Le scuole di Imola sono sicure come sono sicuri gli edifici in cui viviamo. È chiaro che le scuole di ultima generazione sono state costruite quando le norme indicavano degli elementi più stringenti. Le scuole più datate ovviamente hanno una sicurezza inferiore. Ciò non vuol dire che non siano scuole sicure. Grazie. Grazie.